amici di bella sicilia oggi una grande sorpresa stavamo per percorrere questo sentiero questa campagna e davanti ai nostri occhi si presenta questo guardate perché sembra una normale erba invece si tratta di aglio selvatico guardate restate in nostra compagnia perché stiamo per raccoglierne un po vediamo se riusciamo naturalmente speriamo di non rompere spezzare il tutto perché allora guardate vediamo se riusciamo si sente un profumo di aglio veramente forte guardate ci siamo riusciti senza recare danni alla pianta guardate aglio selvatico appena raccolto buonissimo sono tante le erbe spontanee che in sicilia deliziano deliziano i palati già di da tantissimi anni da secoli e secoli questa è una pietanza di quelle cresciuta in maniera spontanea naturale si sento un profumo fortissimo di aglio amici e guardate quanta presenza di tale frutto della terra è presente qui oggi guardate ed è una sorpresa bellissima come d'altronde ogni parte della nostra bella sicilia è una meraviglia l'altro giorno sicuramente avrete visto il video con protagonista lucio sidoti dell'associazione pfm che ci ha regalato degli aneddoti veramente belli molte curiosità relative a tante erbe spontanee ed oggi noi in maniera spontanea in maniera improvvisata vi stiamo facendo conoscere questa quest'altra erba spontanea eccolo qua l'aglio selvatico appena raccolto lasciate un commento scriveteci cosa ne pensate di quest'altro video che oggi vi abbiamo regalato naturalmente seguiranno tanti video ospichiamo i prossimi le prossime escursioni i prossimi raduni siete in tanti a scriverci sicuramente presto quando sarà possibile riusciremo ad attenzionare tanti eventi tanti eventi saranno protagonisti dei nostri video tanti eventi saranno memorabili attraverso le nostre telecamere raccontate così in maniera naturale spontanea e genuina come sappiamo fare noi quindi continuate a seguirci ed un caloroso saluto da tutto lo staff di bella sicilia